Oggi, 15 agosto, festeggiamo l'Assunzione della Vergine Maria. Come abbiamo detto per l'Annuncezione, per l'Immacolata Concezione e per la Vergine del Carmelo, molti sono i nomi mariani, cioè che ricordano, gli attributi e le glorie della Madonna. I nomi di Assunto e di Assunta sono anch'essi in onore della Vergine Assunta in Cielo, la cui grande universale festa accade oggi ed è chiamata anche Ferragosto, dall'antico nome delle Ferie Augusti, cioè vacanze del mese di agosto. La devozione dell'Assunta è anch'essa molto antica e si potrebbe dire ornata di bellissime e poetiche leggende. L'arte cristiana è ricca di rappresentazioni dell'Assunta, specialmente nella scena che mostra il sepolcro della Madonna aperto e ricurgitante di fiori. Attorno al sepolcro sono gli Apostoli che la leggenda dice portati in volo all'annunzio della morte, anzi dell'addormentamento della Madre Celeste. Ultimo a giungere sarebbe stato Santo Tommaso l'incredulo al quale la Vergine che sale in cielo tra il volteggiare degli angeli getta il cingolo a dimostrazione della sua assunzione al cielo in corpo ed anima. Perché il punto teologico è questo. Gesù ascende al cielo, diciamo così, di propria virtù. La Vergine invece è assunta in cielo per i meriti del proprio figlio divino. Ma tutti due, madre e figlio, sono già in cielo, corpo ed anima, promessa ed arra della nostra resurrezione e dell'eterna nostra gloria. Dante Alighieri, già nel suo poema sacro, dice che Gesù e Maria hanno le due stole, cioè sono già in cielo col corpo e con l'anima, mentre tutti gli altri devono ancora attendere il giorno della resurrezione e del giudizio finale. Il poeta cristiano si faceva interprete dell'universale, antichissima devozione della Vergine Assunta, in Oriente e in Occidente. In Oriente, San Epifane e specialmente San Modesto di Gerusalemme formularono per primi la dottrina dell'assunzione, seguiti poi da San Germano di Gerusalemme, da San Giovanni Damasceno e da Sant'Andrea di Creta. In Occidente, il primo assertore dell'assunzione fu San Gregorio di Tursa. È molto più tardi, San Tommaso d'Aquino e San Bonaventura di Bagno Regio. Confermarono quella tesi con la loro profonda dottrina teologica. Fu così che la festa dell'assunta venne istituita in Oriente verso il Cinquecento e in Occidente verso il Seicento. Moltissime chiese attorno in mille sorsero in onore dell'assunta, festeggiata con fervore e con fede in tutta la cristianità. Nonostante ciò, la Chiesa, fino ai nostri giorni, non aveva posto il suo sigillo di infallibile autorità alla dottrina dell'assunta, vale a dire, non aveva solennemente e ufficialmente proclamato il dogma dell'assunzione della Vergine al cielo. Per questo il Papa Benedetto XIV, che pure era devotissimo della Madonna nel 1756, poteva scrivere, l'assunzione non è accolta dalla Chiesa che come un'opinione probabile pia. doveva toccare all'attuale Sommo Pontefice, più dodicesimo, la responsabilità, ma anche la gioia e la gloria di proclamare il dogma della Vergine Assunta nell'anno giubilare 1950. Molti ricordano ancora quella grande giornata piazza San Pietro, fitta di fedeli commossi fino alle lacrime. La Chiesa, docente rappresentata da 300 vescovi, tutti gli ordini religiosi, migliaia di patroci, a capo di pellegrini da ogni parte del mondo, tutte le nazioni, tutte le razze, tutti i popoli, tutte le lingue, che ripetevano incessantemente le lodi della Vergine. Poi, il silenzio più assoluto è il vicario di Cristo, come una bianca apparizione tra la corona dei cardinali, che con la voce sonora e chiara ripete, ma questa volta con l'autorità dell'infallibile Maestro, la formula già ripetuta nei secoli da milioni di fedeli. Maria è assunta in cielo. Alleluia. Quella mattina, sulla cupola di San Pietro, per una felice congiunzione astronomica, erano visibili il sole e la luna. Non solo, dopo qualche tempo, al pastore angelico che aveva proclamato la gloria della donna vestita di sole, apparvero nel disco solare i prodigiosi fenomeni di Fatima, come sublime conferma della dottrina auspicata da millenni di devozione mariana e resa ormai stabile e certa dal Magistero della Chiesa. Oggi festeggiamo anche San Tarcisio o Tarciso, martire nel terzo secolo. Santa Lipio, vesco e confessore del quinto secolo e tutti santi del paradiso, pregate per noi. Amen. Grazie a tutti.